Lavori del futuro, parità dei sessi, sviluppo sostenibile. Sono questi i tre argomenti affrontati durante il Global Young Set Local Edition che si è svolto al Liceo Carducci di Nola e che ha ricevuto il plauso della professoressa assunta compagnone dirigente scolastico. Tre giornate che hanno avuto inizio l'8 ottobre interamente dedicate ai dibattiti sui temi dell'agenda 2030. Il progetto coinvolge 81 studenti del terzo e quarto anno suddivisi in tre commissioni. L'iniziativa è stata promossa dal MIUR e ha permesso ai ragazzi di potersi esprimere e confrontare sui temi del futuro.